Noi abbiamo una grande questione, cioè parlavo prima con il generale comandante dei NAS, la campagna è stata la regione che ha avuto più accessi di verifiche preventive in Italia, anche di oggi un sequestro a Ischia. Il tema è che ci deve essere una supervisione dei direttori, un ingaggio forte degli ispettori regionali, bisogna andare a fare le verifiche. Noi purtroppo per legge interveniamo ex post, prima non abbiamo molti strumenti per intervenire.